... Decadenza di Berlusconi, la giunta decide. Oggi la seduta pubblica a Palazzo Madama. Assenti legali del Cavaliere, l'avvocato Salvatore Di Pardo ha ribadito che la legge Severino non è retrattiva. Berlusconi non ha i requisiti morali, ha detto. ... Indennità d'oro, la protesta va avanti. Il Comitato degli Indignati ha voluto fare chiarezza sui costi della manifestazione di martedì. I compensi della casta ancora nel mirino del Comitato, che continuerà a far sentire la propria voce. Il Tar conferma l'elezione di Palmieri. Il Tribunale ha respinto il ricorso di Raffaele Coppola, che chiedeva di sospendere la designazione. Le difformità richiamate dal ricorrente non incidono sulla validità del voto. Hanno sostenuto i giudici che entreranno nel merito a marzo. La denuncia di Izzo, reperti spariti. Secondo il sindacalista della Will, sarebbero state portate via decine di pezzi archeologici dal Museo Paleolitico di Isernia. Una vicenda strana, detto, sulla quale occorre fare chiarezza. Confusione nell'Isernia, presidente ignoto. Incontro dei vertici della società con il sindaco per avere chiarezza. Brasiello dovrebbe avere delle risposte in giornata da Gaetano Battiloro sul perché i bianco celesti dovrebbero giocare a Napoli. Buon pomeriggio, un saluto a tutti voi, edizione delle 14 del nostro telegiornale. Dunque, riflettori puntati sul Palazzo Madama, sulla Sala Coc, dove la Commissione, la Giunta per le autorizzazioni a procedere, si è riunita questa mattina per l'audizione del primo dei non eletti in Molise, Ulisse di Giacomo. Uomo del giorno, Salvatore Di Pardo, che è stato sentito dai commissari e ha illustrato le ragioni del senatore Inpectore, potremmo anche dire così, del Molise. Intanto dovremmo avere proprio l'uomo del giorno, Salvatore Di Pardo, in collegamento con noi al telefono. Avvocato, mi sente? Sì, sì, la sento bene. Allora, intanto grazie per essere qui con noi in diretta al telefono da Roma. Diciamo subito che la controparte non si è presentata oggi. Pensa che questo le abbia facilitato il compito? Non penso, non penso. Anche perché le argomentazioni di Berlusconi erano state già evidenziate nella memoria depositata del 28. Quindi, diciamo, quello che doveva dire l'ha detto. Avvocato, lei su tutti i siti e nelle agenzie viene definito come colui che ha smontato in cinque punti la difesa del Cavaliere. Intanto, in rapidissima sintesi, ci dice il punto più importante dei cinque, poi naturalmente li analizzeremo nel corso della giornata. Il punto più importante era l'applicabilità alla posizione di Silvio Berlusconi della normativa della cosiddetta legge Severino. Il senatore Berlusconi riteneva che non fosse applicabile perché questa legge doveva essere intesa come una norma penale con valenza retroattiva e quindi inapplicabile alle sue vicende perché erano vicende antecedenti all'entrata in Milano del Parigi. Però sul punto già c'è una giurisprudenza consolidata, proprio sul caso del Molise, che riguarda sia la posizione di Miniscalco, sia Iorio e sia una sentenza recentissima di ieri, proprio del Tarlazzo, sulla posizione di un consigliere comunale che in concluso la giurisprudenza amministrativa chiarisce che questa norma non è una norma retroattiva, è una norma che stabilisce dei requisiti che devono possedere coloro che vogliono accedere a cariche pubbliche rilevanti e questi requisiti devono essere posseduti sempre e nel caso di Berlusconi, così come nell'ipotesi di Iorio o di Miniscalco, questi requisiti non ci sono e quindi lui deve necessariamente decadere. Avvocato, c'è stato anche un momento in cui i componenti della Commissione, meglio il Presidente Stefano, le ha rivolto le domande che gli arrivavano dei colleghi della Commissione stessa. C'è stato un momento in cui il dibattito ha assunto anche una connotazione politica quando tra le domande le è stato chiesto per quale motivo, secondo lei, la Giunta poteva essere imparziale. Ci spiega anche in questo caso brevemente come è stato in grado di fare davanti ai commissari lei che cosa ha risposto? Il problema è questo. Berlusconi sostiene che la Giunta non è imparziale. Io ritengo che la Giunta è un organo politico, non è un organo terzo rispetto al senatore Berlusconi, perché la Giunta è composta da senatori che votano politicamente. Diciamo che la Giunta dà solo un parere, non adotta la decisione finale, c'è il finale dell'Assemblea, quindi è una decisione politica e questo è voluto proprio dalla Costituzione. La Costituzione rimette con il principio dell'autodichia allo stesso Parlamento, alla stessa quindi al Senato, la possibilità di decidere sulla legittimità dell'elezione di un suo componente, sottraendoli quindi al giudice terzo indipendente. Quindi mi sembra che sostenere che la Giunta, soltanto perché alcuni suoi componenti hanno espresso delle valutazioni, non si è legittimata a provvedere, è un errore, perché tutti i componenti del Senato hanno espresso valutazioni e non sono certo imparziali. Quindi se così fosse il Senato stesso non si potrebbe pronunciare sulla posizione di Berlusconi. Ma devo dire che quella del senatore Berlusconi, così come quella di qualsiasi senatore, è una posizione di maggior tutela e garanzia, perché se Berlusconi avesse avuto, così come tutti i comuni cittadini, un giudice terzo imparziale, quindi un magistrato, quindi se lui fosse stato sottoposto al giudizio del Tribunale amministrativo prima e del Consiglio di Stato poi, adesso starebbe già a casa, perché i tribunali sono fermi nel ritenere questa normativa applicabile, tant'è vero che l'hanno applicata con molto rigore a Iorio, a Miniscalco e ad altri cittadini. Quindi diciamo così, l'appello di Berlusconi a un soggetto terzo è un appello secondo me che non ha un gran senso, perché se così fosse, lui se fosse trattato come tutti gli altri cittadini, cosa che noi abbiamo chiesto anche all'aggiunta delle elezioni, dove deve immediatamente decadere. Abbiamo quindi chiesto all'aggiunta di applicare la legge in maniera uguale per tutti. Non vedo perché la posizione di Berlusconi debba essere una posizione differente da quella degli altri cittadini. Grazie Avvocato, ce la fa proprio in dieci secondi a dirci che cosa accadrà nel pomeriggio? L'aggiunta si pronuncerà, spero presto, perché la questione in diritto non mi sembra complicata. Sapremo oggi pomeriggio se... Assunto il principio di uguaglianza, Berlusconi deve regalire. D'accordo, grazie Avvocato, la ringraziamo ancora per essere stato con noi. Noi intanto andiamo avanti con il telegiornale. Parliamo di un'altra decisione assunta dai giudici, quella del Tar del Molise, secondo cui le difformità censurate nel ricorso non incidono sulla validità del voto. è la motivazione della prima sezione con la quale è stata respinta la richiesta di sospendere l'elezione di Gian Maria Palmieri alla carica direttore dell'Università del Molise, presentata nel ricorso dal suo avversario Raffaele Coppola. I giudici hanno comunque ritenuto di dover entrare nel merito della questione e hanno fissato al 13 marzo la data del dibattimento. Prosegue in Molise la protesta degli indignati contro le indennità di carica del Consiglio regionale. Oggi nuovo incontro con i giornalisti. Ce ne parla Giovanni Minicozzi. Dopo la eclatante manifestazione pubblica dello scorso primo ottobre, la protesta degli indignati contro l'aumento delle indennità dei consiglieri regionali e quello contestuale delle tasse non si ferma. Lo hanno detto a chiare lettere gli organizzatori, che hanno anche replicato a muso duro alle accuse ricevute dall'Aula di Palazzo Moffa nel corso dell'ultima seduta circa la falsità degli importi diffusi con volantini riferiti agli stipendi degli eletti a Palazzo Moffa. Il Comitato degli indignati ha anche respinto con determinazione l'accusa di voler strumentalizzare la situazione legata alle indennità per occulte finalità politiche. Ma gli importi degli stipendi da voi diffusi sono errati o esatti? Sono sicuramente esatti, forse abbiamo sbagliato in difetto e riteniamo che sono sicuramente non compatibili, insisto su questo concetto, sulla situazione di sofferenza, di crisi economica e sociale che sta vivendo questa piccola comunità. Perché è una comunità, non dimentichiamo, di 300.000 abitanti e non può sostenere delle spese così spropositate, soprattutto alla luce di produzione di attività amministrative che sono alquanto molto blande, per non dire altre cose. Ci saremmo aspettati che ci fosse stata una risposta nel senso della prosecuzione, nel taglio della spesa pubblica, l'eliminazione delle auto blu. Avremmo voluto che il Presidente della Giunta ci dicesse che si sta procedendo all'eliminazione delle sedi di Bruxelles, di Roma, del Roxy, che avesse detto che eliminava gli enti inutili, che stava procedendo a eliminare le consulenze che forse sono troppe rispetto al numero dei dipendenti pubblici che annovera la Regione. Invece tutt'altro, si è detto che chi ci finanzia e chi ci sta dietro a questa iniziativa. Sono dei semplici cittadini. Noi abbiamo quotidianamente il consenso delle persone che ritengono, ripeto, una cosa grande in giustizia questa disparità di trattamento tra chi ha tanti privilegi e chi soffre con 400 euro di pensione mensile. Come proseguirete? Intanto abbiamo dei contatti dal territorio, ci sono dei movimenti spontanei di cittadini che vogliono partecipare. Cercheremo di raccordarci su questo e cercheremo di organizzare un'altra grande manifestazione e questa volta sì, vedremo chi sarà arroccato nel palazzo e chi sta tra la gente. Il contabile protembole del Comitato Romano Amoroso ha fatto chiarezza anche sul costo della manifestazione del primo ottobre e sui finanziatori. Il totale delle spese, a meno dai conti che io sto portando avanti, è di circa 1.300 euro. Il costo dell'intera manifestazione. Di questi 1.300 euro una parte è stata versata a libri cittadini mediane sottoscrizione direttamente lì in piazza dentro la cassetta. E il resto è stato completato il versamento per copertura delle spese da parte dei organizzatori. La Casa di Cura Villa Maria di Campobasso ha ripreso a pieno regime le attività di ricovero in convenzione sia per i pazienti molisani che per quelli che arrivano da fuori regione. Lo ha comunicato l'amministratore Marianna Sabelli. Abbiamo ripristinato il servizio, ha detto nonostante il contenzioso con Reggio Mene e Asrem per il budget del 2013 che ci aveva costretti aggiunto ad una chiusura parziale, ricorderete, il blocco dei ricoveri per le persone di fuori regione. La decisione era arrivata dopo la denuncia del direttore Nicola Baranello per la mancata assegnazione di 750 mila euro dall'Asrem per l'assistenza specialistica. Siamo rammaricati per il disagio. Hanno concluso da Villa Maria anche se non è di peso dalla nostra volontà. Altra situazione in bilico, quella dell'ITR, nominato lunedì. Il nuovo amministratore dovrebbe essere nominato lunedì. Dicevamo la scelta di Bianchi è orientata sul consulente Alberto Manganiello. Oggi a Isernia, invece, sul piano giudiziario, il Tribunale del Riesame si è riunito per decidere sui sequestri della finanza. Sentiamo il punto da Sergio Di Vincenzo. L'Assemblea dei soci dell'ITR si riunirà lunedì a Milano. Dovrà decidere se dare o meno il via libera ad Alberto Manganiello. Al consulente aziendale, già amministratore della SEA di Campobasso, Antonio Bianchi intende cedere il timone dell'ITR, almeno in questa delicata fase del concordato preventivo. Intanto il patron dell'azienda di Pettoranello in queste ore è in contatto con i vertici di Pier Balmen per strappare un nuovo accordo che permette di rilanciare la produzione dello stabilimento molisano. Tutto fermo, invece, sul fronte del pagamento degli stipendi. Si sa solo che il commissario Ferreri è in contatto con il giudice Battista e che difficilmente prima della settimana prossima si saprà qualcosa. La faccenda è più complessa di quanto si creda. Bisogna infatti dare risposte anche ai fornitori, a loro volta in attesa di sapere se potranno o meno avere un acconto sui crediti pregressi. L'obiettivo è quello di trovare una soluzione che accontenti tutti. Perché se è vero che senza dipendenti non si produce, è altrettanto vero che senza la merce dei fornitori l'ingranaggio si inceppa con conseguenze imprevedibili. Oggi, intanto, al Tribunale di Sernia si è tenuta l'udienza del riesame per decidere sulla richiesta di dissequestro dei capi bloccati dalla Guardia di Finanza durante le perquisizioni che il mese scorso hanno interessato diverse regioni italiane. Il collegio giudicante si è riservato di decidere. Nuovo presidio oggi alla giunta regionale dei lavoratori della GAM in attesa di incontrare il presidente Frattura. L'incontro è saltato per impegni del governatore che ha fatto però sapere che l'unica offerta arrivata per rilevare l'azienda è quella dei siciliani Leo Cata. La contestuale assenza del direttore generale Francioni, impegnato a Bruxelles, ha fatto slittare a lunedì l'apertura della busta e quindi non si conosce ancora la proposta dell'azienda. I lavoratori comunque hanno avuto assicurazioni dal direttore di Fimmolise Cancellario che la nuova società verrà inquadrata nel settore industria per risolvere il problema legato agli ammortizzatori sociali. Intanto Frattura ha firmato il decreto di nomina per l'ingegnere Nicola Baranello come amministratore unico della GAM, un professionista, ha detto il presidente Frattura, che vanta un curriculum di grande rilievo. Ancora una manifestazione oggi a Campobasso, quella dei dipendenti dell'Inps che si lamentano per i tagli del governo. Gli uffici sono rimasti chiusi. Anna Maria Di Matteo. Hanno manifestato anche a Campobasso, come in molte altre città italiane, i dipendenti Inps ed ex-Inpdap. Una protesta organizzata davanti alla sete dell'Istituto di Previdenza i cui uffici sono rimasti chiusi al pubblico. Obiettivo richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sulla situazione di estrema difficoltà in cui i dipendenti sono costretti a lavorare, sotto accusa la politica di tagli imposti dal governo centrale. Sin dall'inizio della crisi economica l'Istituto è stato un po' con il baluardo, l'elemento forte che ha, come dire, equilibrato, stabilizzato, facendo fronte alla perdita di lavoro, al diminuire delle imprese che offrono occupazione, eccetera, mediante cassa integrazione e mediante disoccupazione. Vediamo però che col trascorrere degli anni la situazione, nonostante si è migliorato il servizio, a fronte di sempre maggior diminuzione di organico, l'Istituto viene visto più che altro come una specie di bancomat dai governi che si sono succeduti. A fronte di un accorpamento di due enti che finalmente costituiscono una previdenza unica e che però prevede delle esigenze di armonizzazione delle risorse strumentali, delle risorse logistiche, quindi proprio i luoghi risparmiati sugli affitti, unire però i luoghi di lavoro, e si parla anche adesso di tagliare il personale venuto in comando. Diventa difficile a questo punto mantenere un elevato standard all'utenza e lo voglio dire perché è successo che magari su organi di stampa siamo stati fatti oggetto di attacco, o meglio, sembrava, leggendo, sembrava che l'Inps non erogasse nei termini della cassa integrazione, ci fossero problemi di disoccupazione. Non è così. Cosa chiedete? Una politica che possa essere lungimirante, ovvero non si può continuare a prelevare, soprattutto sull'ente di previdenza, che è un po' il salvadanaio dei lavoratori, in assenza di piani seri, concreti, di prospettiva economica. È in terapia intensiva a Campobasso, il bimbo nato mercoledì a Termoli in condizioni disperate, colpito da una sfissia in seguito ad un problema della madre per la rottura dell'utero, sarebbe compromessa l'attività cerebrale. Sul caso all'ospedale di Termoli ha avviato un'indagine interna, il piccolo stava bene, non aveva sofferenze fino al giorno del parto. Torniamo a parlare della cronaca amministrativa, perché in giunta regionale si sono riuniti i sindaci dell'Anci, hanno messo sul tappeto i problemi delle amministrazioni comunali. Ce ne parla in questo servizio Tonino Danese. Sono i comuni a costituire il paese e dare loro la fiducia significa ridarla ai cittadini. Ne sono convinti i vertici dell'Anci nazionale, lo ha ribadito anche il presidente regionale dell'Associazione Pompilio Sciulli, aprendo i lavori della riunione con i sindaci molisani, l'occasione per fare il punto su quanto fatto in un anno e per ribadire alcune cose. Ad esempio dei rimborsi della neve di due anni fa, della famosa nevecata di due anni fa, dove i comuni hanno anticipato delle somme e oggi si trovano a dover ricevere decreti ingiuntivi da parte delle ditte che hanno lavorato per garantire il servizio, però non sono state pagate. E questo la dice lunga su quello che potrebbe accadere se dovesse capitare questa stagione invernale, quello che è successo due anni fa. Sul punto il governatore Frattura è intervenuto alla manifestazione e ha sottolineato la necessità di studiare insieme un piano per risolvere la questione e in generale di scegliere la via del confronto per affronteggiare i problemi. Sciulli ha poi rimarcato come Lanci non si sia fatta imporre dall'alto decisioni sul dimensionamento scolastico su cui sta lavorando, ma non solo. Mi riferisco anche in particolare al discorso del comune di San Giuliano di Puglia, di Bonefro, Colletorto e Santa Croce di Maliano, dove il governo sappiamo che ha deciso di utilizzare il relativo villaggio per portarvi i rifugiati. Lanci ha saputo raccogliere le istanze dei vari sindaci del cratere e di questi comuni interessati in particolare per non recepire in maniera passiva questa decisione del governo, ma essere parte attiva nel senso di sì, li vogliamo, vogliamo accogliere queste persone, però le nostre problematiche sono queste, i nostri problemi che affrontiamo tutti i giorni sono questi, quindi vediamo come costruire insieme la cosa. Al tavolo presente anche Fausto Pepe dell'Ufficio di Presidenza Nazionale del Lancio e Micaela Fanelli, pronti a portare a livello nazionale le istanze locali. Altro punto cardine è quello del patto di stabilità che strozza soprattutto i piccoli comuni e sulla fiscalità municipale. Adesso siamo stati costretti a mettere una tassa, la Tares, che fra tre mesi dovremo togliere, perché sappiamo tutti che entrerà in vigore la Tax Service, la famosa tassa che dovrà comprendere l'Imu e la Tares. Però ecco, che cosa abbiamo fatto, che cosa hanno dovuto fare i sindaci? Hanno dovuto mettere questa tassa, aumentarla del 30%, perché è un 30% che i comuni prendono e trasferiscono al Governo. Quindi noi siamo diventati gli esattori del Governo. Lei se è nel Consiglio Comunale invece ha discusso innanzitutto il tema della sicurezza nelle scuole. Sentiamo come è andato il dibattito a Palazzo San Francesco nel servizio di Enzo Di Gaetano. La materna della San Giovanni Bosco per il momento non si sposterà dalla vecchia sede di Via 24 Maggio. La conferma è venuta fuori in Consiglio Comunale a Isernia, dopo che i genitori dei circa 100 bambini della materna avevano chiesto al Sindaco un'altra destinazione più sicura per i propri figli. Tutto nasce dall'allarme gas Radon, rilevato nei locali di San Lazzaro, dove la materna era ospitata. Un trasferimento quindi temporaneo finché i valori non rientreranno nei limiti. Questa amministrazione si è trovata di fronte alla gestione di un momento emergenziale. Cioè abbiamo avuto questa segnalazione da parte dell'ARPA della presenza, o meglio del potenziale rischio di presenza di Radon all'interno di una delle strutture che ospita una classe della San Giovanni Bosco. In virtù di questo annuncio l'amministrazione ha dovuto, credo io, in maniera attenta prendere la decisione di trasferirlo in un'altra sede. Naturalmente si è creata la condizione di trasferirlo in una sede di proprietà perché essendo questa scuola ospitata in una struttura privata non ci è permesso di muoverci su altre strutture private. Naturalmente guardando il parco immobiliare che in questo momento di cui è dotato l'amministrazione comunale, l'unica soluzione possibile e temporanea naturalmente è stata quella di ritornare nella vecchia struttura della San Giovanni Bosco che non è mai stata ufficialmente chiusa. Diciamo che all'epoca fu in un certo senso deciso di trasferire i bambini semplicemente per una questione legata principalmente a un fenomeno emotivo. Ma il vero problema della San Giovanni Bosco era l'indice di affollamento perché era una scuola di oltre 800 bambini e diciamo non erano appena rispettate le norme antigenio, quindi di evacuazione. Il fatto di alleggerire il carico delle persone presenti, tanto è vero che gradualmente è stata svuotata quella scuola, ha portato sì che poi l'intera scuola fosse abbandonata come unità didattica. Però in effetti la segreteria è sempre rimasta nella San Giovanni Bosco. Le aule che oggi sono occupate da queste classi sono state in questi anni comunque occupate da scuole serali, CTP, sono state nel periodo estivo occupate dagli campus scolastici. Diciamo che la San Giovanni Bosco per i corpi di fabbrica che sono oggi oggetto della discussione hanno un grado di vulnerabilità alla pari di tutte le altre scuole della città di Isernia. Sull'argomento sicurezza scuole anche la minoranza ha chiesto la condivisione delle scelte da fare e se ne è fatto portavoce Stefano Testa. Il problema scuole è un problema che sicuramente non può ammettere divisioni politiche, divisioni partitiche, non a colore. È un problema che riguarda tutta la cittadinanza e deve essere affrontato con il massimo della serietà da tutti gli esponenti del Consiglio Comunale al di là delle fazioni. E a Venafro invece il Consiglio Comunale ha parlato del futuro del Santissimo Rosario ma anche della situazione finanziaria piuttosto difficile dell'ente. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. Tra i punti più attesi della seduta la discussione sul futuro dell'ospedale. Il Consiglio Comunale di Venafro è stato chiamato a fare propria la proposta elaborata dal Comitato pro Santissimo Rosario che punta a salvare il presidio anche attraverso accordi interregionali. Frattura accennò alla possibilità di fare degli accordi con i governatori delle regioni limitrofe, addirittura si era già mosso e addirittura vi ha già avuto un cenno di riscontro dalla regione Campania. Questo significherebbe fare di Venafro l'ospedale interregionale. Noi proprio per promuovere ciò abbiamo in questa ultima settimana ma già da un paio di settimane a dire vero lavorato e predisposto una lettera, un invito ai sindaci dei comuni dell'Alto Casertano ma anche dei comuni dell'Azio che sono più immediatamente confinanti con Venafro e li invitiamo a sollecitare accordi interregionali per la sanità. Il confronto con i consiglieri di entrambi gli schieramenti è servito a perfezionare la proposta. Sono apparsi tutti in sintonia con il Comitato cittadino pur nella consapevolezza che qualche integrazione potrebbe portare ulteriori benefici. Chiediamo che si insista sulla necessità di mantenere a Venafro l'ortopedia perché questo consentirebbe di poter definire effettivamente accordi di confine con le altre regioni che usufruiscono di questa specialità al Santissimo Rosario e soprattutto giustificherebbe la permanenza di un pronto soccorso H24 perché ci sarebbe una specialità chirurgica in effetti, qual è l'ortopedia che avrebbe la possibilità di intervenire insieme magari a un chirurgo reperibile per la chirurgia generale e creare già una parte dell'equip per un'emergenza. Durante i lavori del Consiglio Sorbo ha anche parlato delle gravi difficoltà economiche dell'ente. Uno dei problemi riguarda la riscossione dei tributi. Complessivamente il Comune avanza 1.700.000 euro. A tal proposito il Sindaco ha annunciato verifiche più severe per recuperare il dovuto dai cittadini. È severo è anche il giudizio delle minoranze su questi primi mesi di amministrazione. Sta affrontando pochissime problematiche, sta beneficiando di questioni risolte dalla precedente amministrazione e quindi questioni già, finanziamenti già ottenuti precedentemente. Oggi si vanta di cose che non sono frutto dell'attuale amministrazione. Ovviamente stiamo aspettando ancora le linee programmatiche per quale ragione ancora oggi non vengono comunicate al Consiglio Comunale quali sono le linee programmatiche dell'amministrazione. A Termoli adesso dove dopo un anno di chiusura sta per riaprire la piscina comunale. 700.000 euro sono costati i lavori. Non solo è stato smantellato il tetto di amianto ma anche ristrutturati i locali. Sentiamo. Ultimi giorni frenetici di lavoro degli operai, quindi il collaudo è per il 14 ottobre prevista la riapertura della piscina comunale di Termoli, rimasta chiusa per oltre un anno in seguito all'affidamento per la nuova gestione e ai lavori che hanno interessato l'intera struttura. Primo fra tutti la rimozione della copertura in amianto. Ad aggiudicarsi la gara sono state la Idrosport e la H2O Sport di Campobasso che ora gestiranno insieme l'impianto per dieci anni. Non ci sarà solo un tetto più sicuro ma anche una ridistribuzione degli spazi con nuovi spogliatoi, nuove segreterie e persino un punto di primo soccorso. Sono dunque stati rifatti tutti gli impianti, quello elettrico, quello idrico e il riscaldamento. Sono state cambiate alcune tinte delle pareti per rendere la struttura più luminosa e risistemati gli spalti. Ci sarà più luce anche grazie ai LED e ai lucernari che si potranno aprire elettronicamente e che consentiranno anche una maggiore salubrità della zona delle vasche. Lavori costati 700 mila euro e che erano da realizzare nei dieci anni di gestione così come previsto dal capitolato ma che i due soci Antonio Oriente e Massimo Tucci sono stati costretti a fare subito per le pessime condizioni in cui hanno trovato la struttura piena di muffe e con impianti fatiscenti. I presidenti delle due società hanno spiegato di aver editato la piscina in condizioni diverse dal sopralluogo fatto prima della gara di appalto accusando di una specie di sabotaggio il vecchio gestore, la Termolinuoto che prima di lasciare l'edificio ha danneggiato le prese elettriche e portato via alcuni arredi fondamentali delle vasche come ad esempio i galleggianti delle corsie e i blocchi di partenza e che ora sono stati riacquistati. Tutti i soldi non previsti e che abbiamo dovuto tirar fuori hanno spiegato come anche quelli per rifare le guani al tetto degli spogliatoi che erano pieni di infiltrazioni. Le due società hanno infine voluto chiudere la polemica in atto con la Termolinuoto sulla concessione dello spazio acqua per gli allenamenti spiegando di non voler ostacolare nessuno, di voler dare spazio a tutti compresi anziani e disabili. Il nostro scopo è quello di ridare alla città di Termolinuoto una piscina comunale degno di questo nome, hanno concluso. Ora parliamo di una denuncia piuttosto singolare ma comunque allarmante presentata da Emilio Izzo II nel mondo il quale nel Paleolitico di Isernia, dal Paleolitico di Isernia sarebbero spariti decine di reperti. Sentiamo la nostra redazione. Sarebbero centinaia i reperti fossili del Paleolitico di Isernia trasferiti all'Università di Ferrara per essere studiati e catalogati. La denuncia viene da Emilio Izzo che si chiede perché quei reperti non possano restare a Isernia ed essere studiati sul posto. Il problema è che se queste operazioni di trasferimento di materiale si fossero fatte 30 anni fa si poteva pure capire perché qui in zona non c'era niente. Ma dopo 30 anni i reperti ampiamente studiati sui quali sono state anche sbagliate le datazioni devono essere anche ristudiati la cosa mi puzza che significa che continuiamo a portare fuori quello che invece qui dovrebbe rimanere. Perché dopo 30 anni il museo non è finito? Perché in quel museo non si può fare restauro? Perché qui non ci sono i ricercatori adatti per farli? Perché non istituiamo un corso di laurea ad hoc? Allora noi continuiamo a dare all'Università di Ferrara che sul territorio ha solo attinto e si sono fatti le loro carriere universitarie e null'altro. Continuano a fare anche altrove le cose che riguardano Isernia ma non si fa più niente Isernia. Possiamo permettere con noi tutto questo? Allora se noi vediamo partire 130 cassi di materiale per altrove la cosa puzza. Ritorneranno mai? Io questo non lo so. Questo per me è come se fosse, tra virgolette, certamente un furto. Un furto a quella che è la nostra identità. Dotiamoci di quello che ci dobbiamo dotare e non ci possiamo permettere più di perdere tempo. Siamo in chiusura di telegiornale vi facciamo un appello per un Curzar Roano marrone lo dovremmo avere, eccolo qui, nelle immagini si è smarrito a Castelpetroso si chiama Rio ha un collare di metallo e uno arancione chiunque lo avesse trovato non avesse notizie può mettersi in contatto con la nostra redazione. Abbiamo concluso l'edizione delle 14 del nostro telegiornale le previsioni del tempo poi la pagina sportiva noi ci vediamo alle 15 per gli aggiornamenti. Grazie e a più tardi. Benvenuti a Meteo Molise vediamo le previsioni per le prossime ore sulla nostra regione progressivo aumento della nuvolosità con piogge diffuse anche se di debole intensità temperature in calo nei valori massimi venti moderati in mare poco mosso le temperature a campo basso minima 7 massima 14 gradi Isernia 9,18 Termoli 13,18 Boiano 9,16 Alla Rino temperature comprese tra 10 e 16 gradi Agnone 6,13 Venafro 12,20 Verrond Betty Ma Ma bis Ba B � Bos Me Grazie a tutti.